Eh no! Che me... alla fine mi ha fatto il ditino e io l'ho attaccato senza remore, però vaffanculo! Non ci penso adesso! È il momento di svegliarla dal suo lungo sonno! SVAGLIA! Cittazione a Gwine... Ah... sì, Gwinever! Gwinever, sì, Gwinever! Rotture equip più avanti! Mmm... prova arma! Marchingegno più avanti, ma pensa attentamente! Tocca il guscio! Sta proprio dormendo, gioia mia! E c'ha la tiara della Guardiana del Fuoco sulla testa! Parliamole! Non ti arrabbiare! Mamma gli occhi! Gli occhi non mi piacciono per niente! Eh che cazzo le rutto! Eh no, eh! Eh mannaia, gliel'ho rotto! Ma si arrabbia, ma si arrabbia! Ti volevo svegliare, però non così... non ti arrabbiare! Non così in fretta! Guarda quegli occhi! Non mi piacciono per niente! È il momento di usare il ramo bianco! Il ramo bianco! Il ramo bianco! Ecco, mi ha visto! Ti prego non urlare! Non l'ho fatto apposta! Mi hanno chiesto di svegliarti! Oh! Sei svegliato! Svegliandosi è essiccato tutto! Svegliandosi è essiccato tutto! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Tutta la città è sparita! Cioè tutta la zona dove ero finora! Ma che caspita E attaccarla sarebbe successo qualcosa di peggio E' tutto distrutto Cioè risvegliarla Per richiamarla al fuoco Era l'idea Mi sembra Se non ricordo male Dicevo che il drago mi ha spento qualsiasi cosa di supposizione Il cappuccio rosso è qui per divorarci Cappuccio rosso? Per divorare le nostre anime oscure? Rosso Ma Tu sei l'esiliato? Quello senza gambe? Te? Non so se devo attaccarlo o meno Dove stracazzo arrivi? Allora per ora ti lascio stare Però a divorare le nostre anime Il cappuccio rosso? Chi è che aveva il cappuccio rosso? Chi lo aveva? L'hai già incontrato qualcuno con il cappuccio rosso? Cioè cappuccio rosso? Sicuro l'ho già incontrata Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua Però... Eh sì eh Certo non è stato... Un incontro particolarmente... Particolarmente? Lungo Che è se... Il sauce of cinder? No Ma questo lo devo menare Perché ho paura di... Perché devi minare gente a ca... Perché non va bene che strisci così Almeno io lo faccio smettere di soffrire Che è te Tutti i feriti che si rovinano nella sabbia Vabbè Non meniamo gente a caso Vai avanti Andiamo avanti Ok Quello col cappuccio rosso Ok i troni Ma dovresti capire appena avevamo Partita la... La cazzi Ok qua ci sono pellegrini Pellegrini ovuno Ah tu che stavi scappando? No Ok Che cazzo? Che sta facendo? Ma che cazzo? La tua animal school E l'ho incontrato questo dici? Ah vince ti ha fatto entrare nei DLC Ah è lui Per il dipinto della mia signora Ecco davvero Cioè è un po' più grosso Rispetto a quando l'ho incontrato Eh era inginocciato No no Gael Ah si Madonna però in mezzo alle dune Rollare non è del... Il cavaliere schiavo Per la tua signora Ehi E scusa E ad averla ammazzato Quando l'ho incontrato per la prima volta Eeeh Questo non si può ferriare Niente volendo Eh da ma che cazzo di scatto assoluto E' sicura quando mi fa sta cosa A me non mi sembra sicuri Oppure noi semplicemente gli sto facendo molto poco Vabbè Un cazzo di Beyblade Sì C'avevo rotto l'equilibrio Vabbè Non sa se potevo fargli qualcosa con l'equilibrio No Troste E va bene E va bene Vediamo di nuovo Vabbè 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 E va bene Ciится Vabbè Il cavaliere schiavo E vi Verbo Vabbè 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 Sì Sì bevi che supaccio quasi fermo a mezz'aria e vabbè ma che cos'era per un attimo mi aveva schivato cazzi lc tre boss di fila uno dopo l'altro ho fatto il piedino e vabbè i primi due attacchi me lo ha fatto lì vicino per poi farmi lo scatto ferino no no va bene non va bene se sei un perso della barra c'è un sacco di ags se sei un sacco di ags qui ok Bevi Ok Oh Fase 2 adesso No Mamma mia Già c'era sto schifo Chissà che diventa Gli esce il tumore Gli esce il cancro schifoso Sangue Ok Così questo è il sangue Così forte che non hai mai visto il tuo sangue Ah il sangue dell'anima oscura Saresti tu? Perché gli stavi mangiando? Che cazzo Sei un po' arrabbiato? Cazzo hai oscurato il cielo Ma sei scelro? Ma porca troia Beh Posseduto dall'anima oscura? No Però Adesso diventa problematico Va bene Va bene Va bene Va bene I dischi Che avevano l'anima oscura Va bene Ma dove cazzo ti devo contire? Si può sapere Che cacchio Una vitragliatrice Non lo riesco a fare Non lo riesco a fare questo Io indio del ripto No 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 Non lo riesco a fare questo Io indio del ripto Te cazzo di cose del Beyblade Assurde E' gaye Ehm no E' un bastardo Ehm no E' un bastardo E' un bastardo E' un bastardo No, davvero, ma dai, che cazzo di fuzzetto assurdo. Quindi stai rendendo a Gaiaiaiai. Eh sì, perché non vedo come poter arrivarci. Brogio. Alcuni dicono che lui sia il più forte del 3, altri dicono che sia Midier. Altri dicono che sia? Midier. Midier? Midier. Ah, Midier. Ma con Midier avevo dei momenti safe che erano facilmente riconoscibili. E letteralmente solo un attacco dovevo scappare. Gli altri potevo andare in una zona sicura. Con lui, specie nell'altra fase, non c'è. Se prendo le dintanze inizia a spararmi, cazzo, a spararmi. C'è un momento, ci sono. Solo che adesso sei troppo, eccetera. Eh, guarda. Ma ste cazzo di mosse assurde. no, 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 no. Guarda! Io sto rollando in continuazione e mi prende. Ma la faccio tu, pastro, non lo so che cazzo Eccolo la, già dieci Manca anche un po' di una Estus Cioè, uno di solito diventa così nella seconda fase, no? Nella prima Ok Maledetto Eccolo Eccolo Dominare Pazzo è da nè! Ma va a fanno un culo, ma vergogna! Ma che cazzo dici che il drago è più forte? Questo è il più forte! No, non mi ha pure preso! Mamma mia! No, mi devo fermare per oggi! Finisce qui per oggi! Assolutamente! Non riesco a finirla con la vittoria, lo finirò con la sconfitta!